All'Aquila delle 5.000 penne nere trevigiane, 2.000 gli alpini delle sezioni di Treviso, con i circa 800 di Vittorio Veneto e altrettanti di Conegliano. Intanto, questa mattina, ha sfilato lungo le principali vie del centro la bandiera di guerra del nono reggimento alpini, comandato dal colonnello Massimo Iacobucci. Ha fortissima emozione portare qui la bandiera di guerra del nono reggimento alpini. Primo perché il nono reggimento alpini è uno dei reggimenti più importanti delle truppe alpine e secondo perché sono un abruzzese, quindi ho una doppia emozione. Per gli alpini trevigiani all'Aquila una sorta di ritorno a casa dopo gli aiuti per il sisma del 2009. Con loro in festa, oggi anche i 30 gruppi ANA giunti in Italia da altrettanti paesi da tutto il mondo, dall'Australia al Sud America, passando per il Sud Africa. Persone costrette ad emigrare che mantengono vivo l'amor di patria e che tengono viva la memoria di chi si è sacrificato per il tricolore. È stata un'emozione fortissima perché era la bandiera di mio nono in Russia, mio nono è morto là, sono riuscito a baciarla prima che partisse. La bandiera è sempre la bandiera, ma la bandiera del nono per me è qualcosa di più. Con gli alpini, l'artiglieria da montagna, genio e trasmissioni, cavalleria, addestramento allo sci e arrampicata, ranger, meteorologia alpina e storia del corpo. Tutto questo nella cittadella delle Penne Nere allestita nel parco del Castello dell'Aquila.